Spero si senta, benvenuti a questa giornata speciale che sarà ricca e piena di eventi nella quale festeggiamo i dieci anni da quando la città di Pescara si è arricchita di una struttura straordinaria, questo album che è diventato ben presto un cuore pulsante di cultura, di creatività, socialità per questa città. Questo lavoro e questo grande patrimonio che noi ormai viviamo ogni giorno in questa città è stato dovuto alla intuizione e al lavoro e all'impegno della loro sindaco Luciano D'Alfonso che ringrazia la sua amministrazione. Vedete in questi dieci anni ho avuto modo di vivere questa struttura sia come fruttore della cultura semplice ragazzo che vuole vedere ciò che avviene in questa magnifica struttura sia da due anni e mezzo come assessore ebbene all'inizio del mio assessorato molti dicevano sì ma l'alum magari è un po' periferico, nel centro chi vuoi che venga a seguire un'iniziativa che si tenga in un posto così distante ai luoghi abituali della cultura di questa città ebbene questa scommessa è stata straordinariamente vinta dal numero enorme di iniziative e di persone che partecipano e che riempiono le sale dell'Aum in ogni momento. Io inaugurato una stagione che facciamo a tre anni che si chiama Solstizio equinozio cioè una stagione estiva che si tiene qui all'Aum con oltre 100 appuntamenti ogni estate e ad ogni fine estate, che questa stagione parte dal Solstizio all'estate e termina il 21 settembre registriamo oltre le 10-12 mila presenze con oltre 100 iniziative in tutte le stanze. Questo luogo è diventato, come dicevo prima, il coagulo di quello che di più vivo e interessante c'è nella città sia da parte nostra, in doggio, per iniziative che organizziamo da diversi settori di punto di vista ma anche ha un grande appeal anche verso l'esterno, sono tantissime le idee che vengono all'esterno le compagnie di interesse a organizzare eventi qui all'Aum perché chiunque abbia avuto modo di viaggiare e girare un po' non può che non riconoscere come l'Aum una struttura straordinariamente centrale, europea, bellissima in cui soltanto Carminare all'interno sviluppa tantissime idee sulle potenzialità infinite a questa struttura che sta vivendo un momento molto intenso di grande vita e di grande partecipazione. Oggi abbiamo diversi momenti con i quali declineremo questo bellissimo decennale abbiamo qui una mostra fotografica intorno a noi che tra poco inaugureremo sulle mire di asfalto sulla grotta della Lupa e avremo a proposito qui Dino Di Cecco coordinatore del gruppo ricerca archeologica industriale della Maiella e Fabrizio Di Primio, presidente Speiloclub di Chieti. Poi ci richiederemo a intitolare una parte di questa struttura a Antonino Liberi che è uno dei protagonisti della storia e della vita di questa struttura poi vedremo un documentario sulla storia dell'Aum e dopo di che abbiamo ospitato una parte del Pescaraggesse in un bel concerto potremmo goderci a fine di questa prima parte della serata nel piazzale Michelucci. Ora vorrei dare la parola al sindaco di Pescaraggesse in questo intervento. Grazie. Buonasera a tutti. L'assessore Diaco sa anche fare il presentatore. Buonasera a tutti e colgo questa occasione per ripetere in pubblico quello che ho cercato di dire ad alcuni di voi con i quali mi sono intrattenuto prima che la serata partisse. È una festa, si festeggiano i dieci anni da quel 19 luglio del 2007 in cui tutti magari un po' più giovani abbiamo scoperto questa meraviglia perché questo per me è di gran lunga il più bel edificio che c'è a Pescara. Non vi è persona che è transitata da qui e quanti ne sono transitati in questi anni non si è rimasta assolutamente a bocca aperta. Capi di Stato, teste coronate, eminenze grigie della politica e della finanza. Tante persone sono transitate da queste parti e il giudizio è stato un'anime. L'aul che colpisce perché è una gemma che all'improvviso si apre nel suo splendore del cuore della mineta dell'Annunziana che è un altro luogo fantastico della nostra città. Ho ricordato con qualcuno di voi quel 1995 che è stato per me indimenticabile perché l'estate in cui mi sono laureato ero molto spensierato e ricordo anche la prima presa di contatto quasi fisica con Naurum molto diversa da quello di oggi. Era un'edizione bellissima di fuori uso, ricordo, di Carlo Accardi in un contesto che ti sorprendeva perché pur di ruto intuivo quanto fosse straordinario questo luogo. Questo luogo noi lo conosciamo, questo luogo nasce originariamente come stabilimento balneare, come cursal, come si diceva allora. Poi nel 1921 la struttura viene acquistata dalla famiglia Pomiglio che la trasforma in un obbligo industriale ma mantenendo sempre una direzione architettonica molto precisa. Qui con il lavoro dell'architetto Michelucci, qui per esempio è intitolato il piazzale che ha le nostre spalle. Questa qualità architettonica si vede anche nei dettagli. Se tu guardi dall'alto la pianta dell'Aurum ecco che la citazione a questo liquore aureo è visibile perché la forma del piazzale ricorda la panciuta bottiglia dell'Aurum stesso. Questo luogo da luogo abbandonato grazie all'impegno dell'allora sindaco D'Alfonso è diventato questo. È diventato questo come luogo della socialità cittadina, come luogo degli incontri ripetuti e molteplici, come luogo in cui si riesce a fare cultura, si riesce a fare cultura sempre e comunque, con un'offerta che ti lascia sempre contento perché un'offerta culturale così significa che esiste vitalità in questa città e il fatto che tante persone di partecipi si infiliano anche che c'è voglia di abbeverarsi a questa fonte. Un luogo in qualche modo che è contro, cioè anche fisicamente in un certo senso rappresenta l'antitesi all'indifferenza perché stare insieme con me, ci sono delle signore che sono venute da Londra, io sono sempre entusiasta di questo naturalmente per i favolosi percorsi delle relazioni individuali, i famosi sei gradi di separazione che separerebbero ciascuno di noi su madre terra, in realtà sono molto più strette e più piccoli di quanto possiamo immaginare. E questo, se ci pensiamo poi, questa fabbrica quando viene realizzata viene realizzata con criteri di modernità, di adeguatezza alle sfide dei tempi e in un certo senso questa vocazione alla contemporaneità rimane, rimane in questo spazio espositivo artistico, rimane per esempio, penso che molti di voi conoscono, non so, mi viene in mente lo spazio al Viani, questo tunnel che rappresenta una particolare definita via d'ingresso. E poi siamo qui appunto circondati dal nostro colosseo verde perché se questo è un colosseo della cultura, quello che c'è intorno, cioè la pineta del Muziare, rappresenta la cornice ideale dentro cui sviluppare queste dinamiche così importanti. E perché bisogna, si doveva, c'era bisogno, era necessario farlo, cioè dare respiro, far ritornare in vita a un luogo così importante. Lo abbiamo fatto in passato, continueremo a farlo in futuro per consegnarlo naturalmente al depositario più importante della comunità, che siamo noi tutti, che qui ci raduniamo in tante occasioni. La serata appunto prevede una serie multipla di iniziative e nonostante abbia minacciato il contrario ad alcuni di voi appunto non farò un intervento la celevara di, diciamo, tante parole, lo concludo qui e mi sento di dire insieme a noi tutti auguri aurum per i primi tuoi dieci anni e ci vediamo nei prossimi che saranno sempre all'attenza. Grazie. Buonasera, sono Dino Di Cecco, del GRAM. Prima di tutto volevo ringraziare per questa possibilità che ci date di fare l'esposizione qui in questo luogo bellissimo, che in primo luogo ringrazio il dottor Licio Di Biase. Come dicevo, sono contento di inaugurare la mostra Minieri Grotte della Maiella nella serata speciale del decennale della riconversione dell'ex aurum da fabbrica di legore, di legore aurum, che diventa una fabbrica. Anzi, se mi permettete, direi è diventata una miniera che produce cultura e creatività dai talenti dell'intero territorio. Noi del GRAM è un gruppo di amici che da tre anni circa si sono impegnati nella ricerca dei luoghi e della documentazione storica dell'attività di tutto il vaccino minerario, scoprendo anche una grotta naturale, Grotta della Lupa, che lo Sferio Club di Chiedi ha valorizzato. Il vaccino minerario studiato va da Serra Manacesca a Bolognese, con i centri di estrazione a Manopello, a letto Manopello-Roccamorici, a Bateggio, e con il centro industriale di trasformazione a Scafo. La zona dell'alta vallata del Pescara ha avuto un grande sviluppo industriale, dalla metà del 1800 fino a pochi anni fa, sia con l'industria mineraria, con quella chimica, che con quella idroelettrica. Questo non è stato mai evidenziato, sia nei testi storici, letterali ed altri, quindi noi siamo altamente contenti di poter esporre qui questa nostra mostra e dar modo a che si venga a conoscere questa realtà. La situazione attuale del bacino minerario e dei siti è in completo abbandono. Le prospettive future per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e ambientale mi auguro che sarà possibile con il progetto Masterplan del Parco Didattico del Fiume Lavino e mi auguro anche che la Regione, la provincia, i comuni e gli amministratori che rigadono nel bacino minerario sapranno collaborare e scegliere una strada unica per lo sviluppo dei siti minerali, perché solo insieme si potrà dare lustre e importanza a questa situazione. Vi ringrazio di nuovo a tutti e auguri all'altro. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Di Primio, presidente dell'ospedale Club di Chieti. La nostra associazione opera sul territorio dall'ottano 1963 e si occupa principalmente di ricerca e studio delle carità naturali ed artificiali. In questo contesto, appunto, questa sera siamo felici di partecipare insieme con Graeme a questa mostra per presentare il lavoro svolto in collaborazione riguardo appunto a questo parco minerario abbandonato sulla nostra maiella. Presentiamo dei pannelli relativi alla Grotta della Rupa che è stata scoperta appunto dal Graeme all'interno di una miniera abbandonata e dismessa del 1920, se non sbaglio, una grotta che si è rivelata la grotta più lunga della maiella con i suoi quasi 2000 metri di sviluppo. È una grotta che non diventerà mai turistica, però lo può diventare con un turismo visuale. È una grotta dove stiamo effettuando degli studi scientifici in collaborazione con la sovrintendenza archeologica con il Parco Nazionale della Mariella, con varie università, dove sono stati già fatti degli studi e delle analisi su alcune particolarità di questa grotta. Ne cito solo uno che è esposto lì nell'ultimo pannello. Sono stati trovati dei reperti ossei di alcuni animali, tra cui l'ursus spedogus. L'ursus spedogus non è altro che l'antenato dell'orso prestoico, che si è estinto 24.000 anni fa. Quindi all'interno di quella grotta sono stati trovati resti di un animale estinto 24.000 anni fa. Questo ci fa capire che nello studio che noi portiamo avanti all'interno delle cavità possiamo riuscire a capire come era l'ambiente esterno, per esempio in Maiella, 24.000 anni fa. Non mi dilungo, un saluto a tutti e un ringraziamento all'amministrazione in Descara e all'Aurum. E auguri all'Aurum. Un'ultima cosa, invito il 23 domenica pomeriggio alle 18.30 dove ci sarà un convegno, una conferenza, in cui verranno illustrate tutte le ricerche fatte dal Graim e dalle ospelogre e bicchietti nell'ambito del bacino minerario. e ci sono cose veramente, veramente interessanti che non si sanno, ma poi si sapranno da me. Grazie. Allora, grazie a chi ha voluto e saputo organizzare questo inizio di memoria. Voglio considerare quello di questa sera come un inizio di un cammino di memoria poiché le città e le opere vivono anche di memoria e provo a dimostrare perché. Questa è un'opera che non è stata oggetto di atti vandalici non perché c'è una protezione di Batman ma perché è entrata nel patrimonio vissuto, conosciuto e desiderato della città, dei cittadini e anche di quelli che sono cittadini quotidiani. E il fatto che sia entrata quest'opera nel patrimonio collettivo percepito ha fatto sì che mai venisse resa oggetto di atti vandalici. Qualche piccola unghiata vandalica magari si vede dentro ma fuori, nel rapporto diciamo di veduta, di visura, di sguardo che prende le misure dell'aubo da parte di chi ci passa accanto e magari di chi lo osserva anche in orari notturni mai si è pensato di realizzare maleficio nei confronti dell'aubo perché è come se avesse guadagnato una sacralità. E quando si fa memoria, dibattito quando si tematizza insieme quando si coltiva il discorso pubblico alla fine il beneficio è esattamente questo che l'opera è come se venisse patrimonializzata da ciascuno desaurizzata da ciascuno. Io sono venuto soprattutto per questo perché voglio concorrere ulteriormente a questo lavoro di patrimonializzazione individuale. Qual è il valore di quest'opera e qual è l'ulteriore significato di parlarne in pubblico? Io mi ricordo quando Tenni per testimonianza e come un testimone tutto un dibattito precedente che veicolava ambizioni, idee io mi ricordo dei giganti della riflessione collettiva di questa zona cito un architetto per tutti che spero sia ancora in formidabile esercizio Piero Ferretti il quale accanto ad altre cento persone di buona volontà di sicuro ha e hanno fatto sì che diventasse una priorità dell'agenda collettiva. Così come ci sono stati operatori delle istituzioni del comune quest'opera si è diventata rubricata come un mene del comune di Pescara perché ci fu un sindaco Carlo Pace che seppe farsene carico e penso che una città come Pescara debba in questo momento rivolgere anche un ringraziamento con un applauso all'opera che ha fatto Carlo Pace rispetto a questo momento. Poi ci fu un rettore che non è sbagliato a collocarlo stabilmente nella nostra memoria un rettore di sicuro uno il rettore Uberto Crescenti che aveva precise idee sul rapporto tra questa struttura il suo ricordo e la vocazione universitaria di Pescara e poi ci furono tanti che si misero diciamo al seguito accanto per fare in modo che riuscisse quella triangolazione economica amministrativa contrattuale che fece sì che questo bene dall'università passasse al comune se non ricordo male prima ancora era della provincia quando la provincia aveva consistenza e non aveva la piccineria di adesso dal punto di vista istituzionale e mi pare che fece uscire da sé il bene aurum all'indirizzo dell'università e poi dall'università si arrivò al comune dentro un accordo strumentale e amministrativo che metteva insieme intrapresa privata esigenza pubblica e la volontà di restituire antiche lucentezze diciamo giacimenti come questo io ringrazierei anche il presidente del Tardi allora che si mise a favore di questo disegno di crescita di Pescara ed era Catoni un gentiluomo che si è occupato di sanità pubblica poi è diventato magistrato amministrativo e che poi molto presto è stato richiamato dal Signore per un male incurabile che purtroppo nella modernità fa contare molte vittime poi è arrivato il turno nostro noi avevamo delle mura storiche storicizzate che diventarono piene di polvere e piene di rischio rischio di caduta ci fu un dibattito lunghissimo larghissimo e anche approfondito come a volte accade un dibattito che finì anche sul lettino psicanalitico tutti volevano fare qualcosa in più ma c'era il rischio che non si facesse nulla e ci fu un risoluto architetto sabatino di Giovanni con un geometra spero adesso di ricordarmi il nome che mi saluto tutte le mattine Domenico Ballone un gentiluomo di grande generosità che si misero insieme senza supponenza e attivarono il procedimento che consentì l'idoneità dell'utilizzo di quelle risorse 12 milioni di euro che noi rastrellammo tra tutte le economie di tutti i cantieri cioè facciamo quello che fanno i commercianti gli artigiani scrutammo in centinaia e centinaia di cantieri precedenti tutte le microeconomie e facevano un salvadanaio di 12 milioni di euro mi ricordo ancora un grande litigio tra me e un dirigente di allora che mi voleva fare spendere un milione di euro per la progettazione io mi rifiutai forzosamente di spendere un milione di euro per la progettazione dicendo che sabatino di Giovanni avrebbe curato la progettazione preliminare per poi fare sì che una competizione sana l'imprenditore e il giudicatario curasse sotto la nostra attività di indirizzo la progettazione esecutiva che poi era quella che sarebbe stata la guida del cantiere so che fu un'operazione spericolata perché poteva uscire anche il contrario di sé ma fu una perfetta progettazione ed una perfetta realizzazione perché avemmo la fortuna di incrociare nella contrattazione libera del mercato un'impresa che aveva un vincolo morale con la città ed era l'impresa di Vincenzo questa sera lo dico al comune e non lo dico al sindaco però lo dico al comune ci doveva essere l'impresa di Vincenzo perché l'impresa di Vincenzo ci ha messo davvero responsabilità nel fare in modo che quest'opera non fosse solo un'opera che gli donasse il 12% di utili ma che fosse un'opera che donasse alla città il recupero di questo giacimento che rapporto ha avuto la città con quest'opera secondo me è un rapporto quasi un rapporto carnale rispettoso cioè la città ci si è trovata dentro è venuta a molta parte della città quest'opera secondo me ha consentito l'espressione del cognome di Pescara se io dovessi dire quali sono le opere che identificano Pescara questa è una delle 4 o 5 opere che identificano Pescara perché era così nell'attesa nell'aspettativa ed è diventato così anche nella vita nell'esercizio come si onora adesso il decennio di vita di quest'opera o di nuova vita togliendo la ex davanti che ci fu anche un dibattito stratosferico sul mantenimento della ex per me non c'era nessun problema se rimaneva la ex davanti voi sapete che si chiamava exauri poi ci fu un pirotecnico di battito culturale sul toglimento dell'ex io non credo che si onora l'auruma aggiungendo togliendo l'ex ma facendo in modo per esempio che ci siano ulteriori opere che si muovono lungo la dorsale di questa qualità di recupero c'è ancora molto da fare a Pescara e qui il fatto che ci sia diciamo la presenza impegnata questa sera del sindaco di più di un assessore almeno due ne riconosco non so se ci sono ulteriori assessori in ingresso presso il comune di Pescara ci sono anche collaboratori diretti del sindaco noi dobbiamo fare in modo che anche altre opere entrino nell'agenda dei recuperi per esempio potrei dire che onorerebbe questo sforzo di memoria sui dieci anni dell'auro se noi facciamo i compiti a casa rispetto all'ex cofa e all'ex fea l'ex cofa abbiamo detto che è stata una demolizione ricostruttiva cioè lì coniamo un termine di demolicostruzione demolicostruzione così come l'ex fea deve trovare una capacità di risorgenza e di rinascita che generi un rapporto emotivo col meglio di sé della città e poi permettetemi l'aurum ha colto nel segno anche quando è diventato decadentemente il luogo dove si sposano le persone io mi ricordo anche su questo il dibattito sì o no ai matrimoni poi Pescara ha trovato la possibilità di fare sposare le persone davanti alla grandezza e all'infinito del mare e quello mi ha prodotto più simpatia però so che si fanno queste cose anche per determinare il rispetto della sostenibilità economica che impone la vita di strutture come questa a me piacerebbe per esempio che l'aurum concepisse accanto a sé qualcosa che parli ai bambini io mi ricordo per esempio quando la biblioteca provinciale di Pescara sanamente retta dal dottor Fimiani si ingrandì fino a concepire uno spazio ragazzi le generazioni dei genitori dei ragazzi grazie allo spazio ragazzi sembravano straordinariamente rinate e ritrovate poi però con lo spazio ragazzi e la biblioteca ha conosciuto la sua chiusura è immaginabile che nasca nelle vicinanze di aurum qualcosa che estenda la capacità di funzionamento dell'aurum ma anche per i bambini e per i ragazzi io adesso non sono un accademico della riuscita università di architettura di Pescara quindi il mio compito è di formulare indirizzo stimolazione mi piacerebbe che nascesse come fece e seppe fare tra gli altri tra i tanti mi ricordo questo nome per la sua generosità Piero Ferretti accanto al tema dell'aurum Ferretti si pose anche il tema di come fare rinascere e cucire i tanti spazi della pineta da Nuziana facendo in modo che la pineta fosse grande accogliente e morbida e bella e luminosa e spaziosa e verde e colorata facendo in modo che l'opera di recupero non fosse soltanto un cantiere ma un cantiere delicato e rispettoso e ci siamo riusciti perfettamente anche quando è diventata una grande realtà è possibile che i professionisti migliori di Pescara quelli che non operano a chili si facciano carico di pensare qualcosa qui per i ragazzi e per i bambini a me piacerebbe come nella festa cristiana che quando si fa festa anche ad un'opera la festa non sia soltanto di soddisfazione per il già fatto ma la festa sia anche l'occasione per assumere nuovi impegni e il nuovo impegno secondo me deve essere concordato io sono venuto qui per dire che anche i poteri quando partecipano al ricordo devono essere poteri che partecipano ad assumere impegni io non credo che ci sia un modo di amministrare che sia apprezzabile legittimo e legittimato se non si assumono impegni certo poi gli impegni vanno mantenuti ma io mi ricordo un parlamentare di lungo corso non della mia parte politica Sospiri che diceva che i grandi risultati sono frutti di semina e la semina è la messa in esercizio del seme e il seme è a volte irrilevante rispetto alla grandezza del grande risultato noi dobbiamo riseminare perché per adesso stiamo vivendo diciamo di raccolto che viene a origini da molto lontano dobbiamo continuare a fare semina la semina si nutre di intuizione ma si nutre anche di grande dibattito di confronto anche perché se la gente non si confronta coltiva l'odio semina la distruzione purtroppo c'è tanta distruzione in giro che è nutrita da un'ignoranza grassa formidabile poi nascono i mostri vanno in giro un sacco di mostri anche nel dibattito politico io mi auguro che ci sia proprio una specie di presa in carico delle questioni che sono aperte e dei vuoti che ci sono in maniera che tanta gente si metta a discutere come è accaduto a Pescara negli anni 80 negli anni 90 e poi c'è stato un grande quantitativo di risorse che aveva la forma delle idee concludo con due annotazioni io non posso non ricordare che a fare augurio a quest'opera venne quello che allora era giudicato il più bravo sindaco del mondo Pasqual Maragari un socialista del lavoro di Barcellona che poi è diventato anche presidente della Catalogna uno che crede molto alle autonomie e per autonomia lui intende non il distaccamento di qualcosa o qualcos'altro ma pensa all'autonomia come una continua riflessione critica come un continuo mettere in discussione a partire da se stesso venne Pasqual Maragai che adesso sta molto male spero che non mi si dica che sono io il portatore di queste malattie che riguardano quelli che entro con noi a contatto è molto adulto adesso ha fondato anche una grande associazione mondiale che cura la patologia gravissima che attacca a un certo punto la vita delle persone bene mi ricordo Pasqual Maragai che mi disse la struttura è bellissima ma varrà molto quanta vita ci entra dentro ecco io penso che le comunità e davvero concludo sono fatte di storia sono fatte di diritto di pill di economia sono fatte di demografia come ci ricorda sempre Mattoscio ma le comunità sono fatte di vincoli e tra i vincoli per i vincoli ci devono essere i progetti i progetti che si fanno carico delle ambizioni dei dolori dei bisogni l'Aurum è stata la risposta ad una grande aspettativa che aveva Pescara vedete l'Aurum è un centro di Pescara ma l'Aurum è anche diciamo la definizione di un rettangolo formidabile che comincia a mio avviso da dove sta adesso la caserma di Cocco la caserma di Cocco in quei duemila giorni diventò per la parte verde uno spazio della città dei bambini della città delle famiglie della città poi abbiamo fatto in modo che ci fosse dell'altro lungo questo spazio una rivitalizzazione dell'università fatta salva una certa interruzione noi dovremmo continuare a infrastrutturare e arricchire questo formidabile rettangolo di formazione dei sapeni per esempio la parte spaziosa murata della caserma di Cocco è bene che subito entri nella proprietà dei beni della città arriva tra qualche giorno il nuovo procuratore della Repubblica di Pescara io mi auguro che il nuovo procuratore della Repubblica di Pescara faccia come fece allora tanto tempo fa a favore della città il presidente dell'allora tribunale di Pescara Grill noi abbiamo un valentissimo presidente del tribunale Angelo Bozza adesso è arrivato uno stimato procuratore della Repubblica mi auguro che non ci sia nessuna esigenza di gigantismo nei numerosi metri quadrati di spazi della cittadella giudiziaria e che si possa ospitare lì quel poco personale che sta dentro le mura della caserma di Cocchi io so che alcuni sostituti procuratori sono a favore so che il presidente del tribunale è a favore mi auguro che sia a favore anche il nuovo procuratore della Repubblica prima che abbia in apprezzamento la dimensione del gigantismo dell'edilizia giudiziaria che non fa bene a nessuno il gigantismo perché è una prova di decadenza anche di una istituzione così seria perché è più difficile comporre nuove triangolazioni di beni quella cosa lì determinerebbe un ulteriore completamento di questa straordinaria realtà che si apre dalla caserma di Cocco e si conclude con piazzale Le Laudi passando per il valore della pineta d'Avalos e poi naturalmente per questo luogo magnifico di cui stiamo parlando io poi vorrei col sindaco essere utile alla città per fare in modo che la caserma di Vigio e il Fuoco cessi di essere come localizzazione una barzelletta perché la localizzazione della caserma di Vigio e il Fuoco lì è una barzelletta e lo dico davanti ad un servitore emerito di Vigio e il Fuoco come l'ingegnere Ambrosini ma io non credo che la caserma di Vigio e il Fuoco debba stare nella cristalleria diventata tale della città deve stare in un luogo di pregio della città ma un luogo che è facilmente servito dalla grande viabilità che deve offrire rapidità e velocità per arrivare ai punti di criticità c'è una partita documentale anche su questo fronte che è partita il prefetto Frattasi è d'accordo che questa è una priorità un parlamentare ridente della regione Abruzzo ha fatto un'interrogazione giorni fa Razzi io ho anche questo documento a questa interrogazione il prefetto direttore ha risposto che per loro il sito più conveniente più funzionale è quello di via Pantini o via Pantini quindi per la prima volta ufficialmente si fa una scelta di un sito io non sarei neanche contrario se dipendesse da me la scelta purché però quel bene entri in questo speciale luogo magico della formazione che inizia dalla caserma di Pocco io così vorrei che la città di Pescara onorasse attraverso l'impiego corretto dei poteri della città i dieci anni di auto noi dobbiamo gettare il sasso sempre più avanti facendo in modo che mai i luoghi che inauguriamo con l'uso delle risorse pubbliche si riempia di materassi io in un paese della regione Abruzzo ho visto un luogo che è stato molto diciamo esigente circa l'impiego della finanza pubblica regionale e adesso l'ho visto pieno di materassi mi sono fatto il conto il parcheggio di materassi quanto è costata la finanza pubblica regionale cioè una maniera di riempire di niente un bene che è costato molto abbiamo poi il compito di riempirlo con la vita auguri all'aul speriamo che questa stagione diciamo di memoria abbia anche momenti pubblici magari a contatto con la qualità dell'aria estiva per fare in modo che davvero questo ci possa impegnare e vincolare rispetto a nuovi traguardi è una stretta di mano a chi in questi anni ci ha pure lavorato personale so che qui Liceo Di Biasi ha fatto grande parte della sua opera i suoi più stretti collaboratori di Acolo Paola Marcheggiani naturalmente Marco Alessandrini e i tanti che continueranno a dispiegare qui la propria attività lavorativa grazie presidente ora andiamo tutti ci spostiamo per scoprire insieme la tag di Antonio Liberi con la quale intitoliamo il Cursal dell'Aum e subito dopo torneremo qui a vedere il video Aum la fabbrica delle idee a cuore di Sergio Camplone ed Erminia Carattona grazie